Eccoci qua, l'impressione a caldo, l'impressione a caldo sono pazzesca, nel senso che nel giro di una settimana da quel provino mi sono trovato catapultato in questo set meraviglioso, nel senso, comunque si è su un set cinematografico con un grande regista che è Giovanni Veronesi, in più ho fatto questa scena, mi vede ancora vestito con gli abiti di scena da camerieri, ho fatto questa scena con Poi di Germano e sono veramente contentissimo di averlo conosciuto, di aver lavorato con lui, che secondo me è un attore eccezionale, di grande talento, di grande professionalità, la truppa è fantastica, siamo qui al Gianicolo, quindi guarda il miglior posto, la giornata è stupenda, niente, ringraziamenti a tutti e a tutti perché un'esperienza così di solito non capita, non capita nei giovani attori, quindi, per più, cavolo, eh niente, le sensazioni sono forti, sono forti, ammetto che ho avuto all'inizio qualche momento di tensione, comunque sto lavorando con dei professionisti, vedo la truppa, sono stati tenerosissimi con me, quindi sono veramente contento. Quello di giù, esatto, il mio set, il mio piccolo set, il bar dove ho fatto la scena. Ringrazio assolutamente il Gioco dell'otto e il RB Casting che mi hanno dato questa opportunità fantastica e saluto tutti gli artisti che hanno partecipato al Provino e gli auguro veramente, veramente di cuore di avere l'opportunità di affrontare un lavoro così importante e bello, veramente. Grazie. 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 Grazie.